Villa Minoli Imarelli è la splendida residenza settecentesca situata nel cuore della Brianza, che con una classe unica e con un'eleganza esclusiva vi permetterà di far diventare realtà il sogno di un matrimonio fiabesco. Villa Minoli Imarelli accoglie al suo interno diverse sale affrescate e impreziosite dagli artistici complementi d'arredo che le conferiscono quel tocco di charm che solo un'antica dimora nobiliare può offrire. Inoltre nel rigoglioso parco e all'ombra di piante secolari è stato allestito un gazebo chiuso con vetrate, che vi permetterà di godere del rilassante panorama bucolico senza dovervi preoccupare eccessivamente del tempo. La struttura può accogliere comodamente circa 160 commensali e vi verrà affittata in esclusiva per il giorno delle vostre nozze. Villa Minoli Imarelli è una delle lussuose location gestite dalla società Rocca Ricevimenti, che, guidata dalla famiglia Rocca, vanta un'esperienza di ben cinque generazioni nel campo della ristorazione e nel commercio dei vini. Tutta la professionalità dello staff sarà a vostra completa disposizione per garantirvi il massimo nell'organizzazione del catering e del banqueting, così come nell'allestimento tematico degli spazi che sceglierete come cornice per immortalare gli istanti più belli del giorno delle vostre nozze. Rivolgendovi a Rocca Ricevimenti potrete visitare anche le altre location gestite dalla società, castelli e palazzi d'epoca esclusivi in cui potrete contare comunque su un eccellente servizio di catering e banqueting.